Michael Magnesi promessa mantenuta hai vinto e ti è durato anche poco questo match la quinta ripresa sei diventato campione del mondo eh sì alla quinta ripresa con un bel gancio destro abbiamo siamo riusciti a concludere il match come anche dichiarato nell'intervista è una cosa che hai già provato sin da quando hai saputo che resti combattuto con la clinica mazzia qui è stato il colpo decisivo per vincere questo incontro come è nata proprio l'idea sul momento di fare questo di fare questo cancio destro il merito del cancio destro è tutto del maestro che si è studiato il match e ha visto lo spiraglio di entrata che era era quello e come al suo solito ci ha preso adesso speriamo di unificare queste queste cinture eh sì adesso adesso un po di riposo poi aspettiamo le prossime proposte vediamo cosa ci propongono e valutiamo avrai ricevuto tantissimi messaggi per questa vittoria qual è il messaggio più bello che ti è arrivato non voglio sapere di chi è però voglio sapere il messaggio più bello che ti è arrivato ce n'è uno in particolare che mi ha proprio chiamato e mi ha detto che ha visto una molta maturazione a livello pugilistico un un ragionamento un po più lucido sul ring quindi quella telefonata lì e mi ha fatto molto piacere visto anche documentare molto bello su di te hai detto che in tanti si sono fatti sentire in questi anni con i tuoi successi che magari prima non si facevano sentire è stato così anche questa volta sì 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 ci sono persone che mi hanno mandato messaggi che neanche ricordavo di avere il numero ricordavo che potessero avere il mio numero o che addirittura mi hanno aggiunto su facebook ultimamente quindi ci sta mario massai maestro l'ho sentita poco durante il match quindi significa che è andato tutto bene che michael ha rispettato le direttive da parte del maestro sì forse per la prima volta è stato veramente molto lucido e ha fatto al momento giusto quello che ci eravamo programmati quando veniva all'angolo era perfetto ragionava benissimo in tutte le riprese che ha portato fino alla quarta ripresa è stato lucidissimo non ha avuto bisogno di molti consigli perché sapevamo già che dovevamo andare avanti e mettere spingere il piede sull'acceleratore da dopo il quarto round è stato soltanto semplicemente ricordato perché faceva tutto il mestiere di quello che avevamo fatto già in palestra di portare questo cancio destro schivare fare di qua e di là entrare nel nel colpo che ci aspettavamo ci aspettavamo e in effetti quello è stato è un ragazzo che più va avanti e più ascolta più avanti e più ragiona e ha cambiato tutto il suo sistema pugilistico oggi è diventato un pugile molto imprevedibile è sempre stato forte un ragazzo di cuore un ragazzo che va dentro dal primo al dodicesimo round senza mai fermarsi ma adesso è riuscito anche a ragionare soprattutto ragionare si intende che può fare molto di più sprecando meno e diventa un pugile un po difficile per tutti adesso cosa può puntare forse a vincere altri mondiali ma anche dichiarato che tra qualche anno vorrebbe essere un protomenista assoluto a livello italiano internazionale basta pensare che oggi è campione del mondo dunque già è arrivato al campionato del mondo non è che esiste un campionato del mondo finto è un campionato del mondo vero questo è un campionato del mondo dove lo porterà ad incontrare i grandi campioni del mondo i grandi campioni del mondo come lui che ci possono dare l'opportunità di prenderci come sfidanti maestro va a lei che impressione fa a vedere questi ragazzi che cresce che arrivano questi grandi risultati ma io diciamo che sono abituato a queste cose perché non è un fare per farsi sentire grandi no sono già abituato perché ne ho fatti parecchi di campionati del mondo la mia unica cosa è che comunque io già sapevo che arrivavamo perché già con chicca la moglie di maicolo con chi io la chiamo chicca al standard branco e se eravamo detti più di una volta ci eravamo detti più di una volta che l'avremmo portato là dove siamo arrivati adesso ma è un ragazzo che merita un ragazzo che si allena un ragazzo che costruisce giorno per giorno il suo programma di allenamento è un ragazzo che se gli dici è inutile che continua a dire un ragazzo è un professionista adesso è un professionista ed è un campione del mondo a chi è un programma di allenamento è un ragazzo che mi ha fatto anche se sono